un posto ma facciamo fare gli altri si andiamo con un'ultima almeno non lo becchiamo subito no anche perchè dovrei difendere poi gli atti delirati no vabbè se arriviamo per i primi ti pare chi dentro aspetti che arrivano gli altri si immazionano di loro anche che adesso c'è uno spawn cani passiamo a destra non voglio tirargli il bengala se no ci vedono da lontano no se spawnano non spawnano al tipo di gioia minchia andiamo a batteria no farina via fanno sono spogli non voglio dire e si chiuderà ancora il boss è facile che sia zona maialeriana ma il boss lo stanno già facendo è facile che no mastini davanti a noi laggiù altri cani eh vabbè dai cioè o facciamo o facciamo mastini se no raggiù un bengala pace pace e non muare orra l'altro mi ha illuminato un coso tra l'altro mi ha illuminato un inconsumabile a fare corrigo davanti corrigo davanti oh porco dio oggi no ciao nessuno di poi il solo all'altro blocco si 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 no ma c'è pure un cavallo con di fronte ma porco dio ma che cazzo è no aspetta no no lo zombie anche ho detto c'è qualcuno in acqua o o oh c'è c'è 2 armi e magari non è solo un corpo un po' di male cazzo sono attivato guarda che si è bugato il fucile a volte quando hai l'attacco corpo a corpo non so perchè a me si bug quindi devo scompare no? non mi va in mir, non mi va in uno scopo rimane in caccia il fucile e se io provo a sparare mi dà il colpo corpo a corpo vediamo, andiamo a prenderci con gli indizi, vediamo guarda guarda di nuovo guarda 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 guard Gli spari sono già comunque alla grande in zona boss Gli spari sono già Ok, c'è un infernale. Ah, li compro sì. Non ho anche smesso di troppo. Un cavallo pure. Dove? Da, oltre lo steccato mi sapevo che lo sentito. Eh... Io faccio l'immunatore. Ho il corazzato. Ho un corazzato a sinistra. Dove c'è un corazzato a sinistra? Dove c'è un corazzato? 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 Vedi che ho preso? Dici? No, sei male a cosa. Maialeria. E questi non hanno ancora fatto il boss. Sì, va bene. Un altro giorno, dai. Sì, va bene. Un altro giorno, dai. Infronta, si muore. Siamo rimasti. ok non c'è una porta forte qui dentro ecco qui è chiuso ok ok occhio che lì c'è la gabbia con i cani consumabili non lo sa che non aspetta spreco questo spreco bella catata occhio qua sui binari che tante volte ci sono i core infatti guarda sono lì questo è uno spectre ma cosa stiamo facendo o hanno fightato prima perché è impossibile dai che non hanno ancora fatto il boss cioè vuol dire che in dieci minuti in dieci minuti questi non hanno fatto il boss non capisco se fightano perché ho sentito già spectre pistola forse fight ma se forse sono due team eh passiamo con calma dai campi di grano ah la schiena che trovo corvi non capisco ti non capisco guarda 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 vedo un'aria sul tetto quindi sono la zona sinistra per forza perché a destra c'è un'aria stiamo attaccando quelli che fanno il boss l'unico sito un concetto un po' con la scuola posto per moto con bianco il boss se più possibile non sono dietro no e noi non entriamo dentro però scusa voglio solo capire una roba qua c'è un player morto ok il boss è fermato si stanno ancora fai tanti stanno ancora fai tanti di loro hai visto che c'è un player morto ma hai visto che c'era un player morto ma hai visto che c'era un player morto eh quindi ce l'abbiamo sono nell'altra casa eccole uno l'ho visto uno passare qua andava e sta uscendo e è uscito dietro dall'altra parte del compagno infatti ora è rosso eccole un altro l'hai visto l'hai visto l'hai visto non so che mi hanno visto per me e le faccio il giro sia a destra lancia l'hai visto l'hai visto che c'era morto ok ok c'è l'altro vi do fuoco a questo lancia è laggiù laggiù lo vedo l'hai ferito cazzo occhio davanti a noi ce l'hai davanti ecco il ferito no merda è morto no? il boss è bianco mi ha dato l'assist perché gli ha dato fuoco a quello si ha preso fuoco non ho capito che gli ho sparato guarda un altro player muro, gli ho sparato un colpo di venta lì e non è morto è un focato allora raffilati la vita e stiamo attenti magari qua dove è morto? allora qua c'è uno intanto, cosa aveva? Shabula e Romero Acid a me non me lo fa manco lui a me non me lo fa un cazzo questo qua è morto qua Spectre e Lemoth eh la Lemoth gliela fotto per ora si mi fa mi prendere cranking qua poi l'altro che hai ucciso è qua, quello bruciato Mosin, vieni con papà, Mosin Bayonetta e uppercut questo bene io faccio il boss intanto mi sto luttando a casa sparagli pure oh, dove cazzo sei? è rosso, rosso, rosso no, non mi dirai che sono morto è rosso, porco ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro scappa, scappa l'ho sentito che ti ha lanciato ma perché mi devono uccidere sempre le bombe? io mi sono stancato preso ci provo eh si, si, io mi finisco il boss all'ora vai, vieni via lo vedo vai giù, Winfield dai, vai, vai io mi finisco il boss così posso recuperare un po' di vita il ferito è un altro occhio che gli lanciano un'altra bomb, sono in due, è un team brava, tranquillo, tranquillo ucciso uno, ucciso uno è rimasto muta solo è rimasto da solo aspetta, mi richiede la gira? vai, vai, io ricarico ok, a sinistra era era lì in mezzo uno arrivo, arrivo, arrivo brucio l'amico si si sta lanciando ho lanciato io ho lanciato io eh, nella torre nella torre ok la ma l'ho sentita l'ha morto vittato non è morto scende dalla torre è scappato fuori è scappato di tre mura si, ti sentiamo vermi un attimo che siamo nel difficile no, no, no occhio nel campo di grano no, vabbè dall'ipocalemico è abbastanza l'ha già bruciato è andato a curarsi nel campo non ha capito come l'ho fatto a non fargli headshot fatti vedere amico 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 fatti vedere l'ho fatto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che i occhio qua che c'è una concertina, l'ho messa io lo sento, sento, eccola da questa parte eh, vuole andare ad arrestare, sì preso, bollione c'è provato fanculo ma quello che questo era? no, questo qua con Winfield è una canzinenziata oh, ma quanta cazzo di gente c'è in questa partita guarda, da due spazio così si era già a mezz'ora che si fightavano e abbiamo ancora dovuto fare due team ma quello con Crown and King è bruciato, è induttabile no, questo qua ah, Crown and King e Uppercut ma c'era la dolce, l'hai presa tu? sì, sì ah, sì, con lo Winfield tanta roba quindi ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque in realtà mi manca un cadavere, sai aspetta che c'è un tono ooooh c'è già intorno, l'ho capito faccio un giro con la tenda sta arrivando wolf, vernia ma tu vernia è lì, adesso è intanto Antonio in realtà se vuoi provo a farti riuscire a play c'è ancora vernia non lo senti facile no, questo stavo ascoltando la musica arriva eh comunque se tra giochi stealth che gli altri non ti spottano hai qualche chance in più questi comunque ci hanno spottati però vedi, siamo arrivati che loro eravano già freddato e poi, oddio perché tu hai ucciso il primo, il secondo, quello che era in fiamme ti ha ucciso a te, sì però vedi, non l'hai ucciso, il primo è morto perché non ti aveva spottato a te non ti aveva visto aveva visto, non aveva visto ma non aveva capito che aveva fatto il giro il secondo il secondo il secondo si è andato bene perché ero già infocato io mentre ti uccidevano preso col vetri quindi aveva almeno, aveva appena preso il fuoco e questi due qui però visto questo quanto fa gli incendiari era molto più potente dell'anno classico l'elfa, quella è la bomba proprio infernale si perché fa anche danno da aria se l'avessi stato solo una bomba, cioè una molto inflessiva, non l'avrebbe preso fuoco ma cosa hai però di e invece gli ultimi due io praticamente io gli ultimi due, l'ultimo team quello che prima avevo ucciso, io quello che ha ferito lui è scappato a curarsi, avevo capito da dove sboccava non è andata bene perché l'altro non riesceva a prendermi perché io cosa ho fatto, ho ferito uno, quello è scappato a curarsi ho ferito l'altro, è andato a curarsi quello che si era curato è sboccato, gli ho fatto headshot lì e poi quando ho visto l'altro che l'ho ferito è scappato nel campo ho detto quello ci prova a restare mi sono messo dietro la gabbia dei cani accucciato e lui per restare lì l'unico modo che poteva era arrivare accucciato è diciotto si si ma tanto vabbè dai tre kill mi sono fatto tre kill, quello io stavo facendo il giro io pure perché l'avevo visto, l'avevo sentito infatti ti aspettavo prima dove poteva essere ehm fanno la skin della Nagant Officer cara bella eccetera che 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 che